In quadratura ora per la russa Anna Cicova. Guardate l'espressione attenta e concentrata di Anna Cicova che ha 9.450 per ora al cerchio e 9.500 alle clavette, arrivare diretta quindi per le due azzurre. Dicono i tecnici dell'Asso Nazionale che questo esercizio è quello che riesce meglio, vedremo se effettivamente lo saprà interpretare alla meglio Anna Cicova, Russia. Io vi ricordo anche che le migliori 8 per attrezzo saranno poi impegnate nelle finali di specialità. Molto brava Anna Cicova. Stiamo andando nel giro anche per quel che riguarda la classifica Terra e Nazioni che assegna il titolo continentale. Per ora Ucraina nettamente al comando, le altre che sono in...